e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su inside allora ho paura di riprenderli perché nell'ultimo episodio eravamo appena tipo andati in un sottomarino ecco appunto e ragazzi scusate ma io abbasso perché ho paura dobbiamo esplorare un pochino qui ok si infatti abbiamo fatto però non mi ricordo come si faceva a fare la cosa che abbiamo fatto proprio non mi ricordo ok sinceramente non mi rassicura per niente però qua c'è un muro per caso eh sì ok non credo dobbiamo andare di sopra in effetti no che c'è questo tubo non so se tipo possiamo sorpassarlo o meno capito ah ah ok era dietro pensavo fosse spacca no ok ok ma perché non mi ricordavo con la giusto sì ok ho un po' di paura spero non ci siano pericoli anche qui no credo che dobbiamo andare di là ma volevo vedere anche un attimo più no ok possiamo andare solo di qua e vabbè meglio che seguiamo le vie che dobbiamo fare però comunque è un posto allagato e basta non è proprio diciamo un mare è soltanto un posto allagato ok chiedo che di qua aia 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 ho paura che stiamo tipo creando problemi al sottomarino e spero ovviamente di una macchina mi posso stare mi spiegate ah e chi l'abbia visto qui ok ma non credo dobbiamo andare di qua allora io non so dove caspite lina dobbiamo andare perché non si vede niente assolutamente io sto provando ad aprire ma ecco perché ho paura che stiamo facendo una cosa sbagliata perché lampeggia le cose ho paura che appunto in realtà non è quello che dovremmo fare o si ricarica si sta tipo ricaricando che non so qui non si apre però neanche possiamo passare capito niente forse qui che almeno c'è nel senso che è un po' no qui tocchiamo e non c'è niente su su non c'è niente dello stesso ma devo uscire come faccio uscire ah ok no boh forse no 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 rientra che te l'ha detto di uscire forse non so dobbiamo controllare in giro magari perché io non mi ho idea ah ho capito forse però però è una cosa no il fatto è che è una cosa abbastanza improbabile quello che sto pensando io quindi può darsi che moriremo però forse dobbiamo passare proprio quel personaggino qui ah no 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 ok no perché non mi fa uscire quindi probabilmente appunto non è la cosa giusta da fare dai però forse dobbiamo aspettare di più tipo gli dobbiamo dare più tempo ah no perché bo proprio non capisco no no non lo so come capisco dobbiamo fare perché 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 non credo possa resistere possiamo provare ad andare ma sinceramente ho paura di morire quindi quindi ah 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 no ok ecco qua e infatti non possiamo uscire da lì non potevamo uscire gli effetti io ho detto proviamo ma non credo sia la cosa giusta da fare però invece in realtà era la cosa giusta da fare ok ok siamo usciti e vedo già che dobbiamo salire ah c'è una corda ecco perché ok saliamo qui su forse sento qualcosa ma qui ci possiamo tornare no ok quindi già comunque significa che che merda no no ahhhh ahhhh ok non so non credo abbiamo fatto una cosa giusta ehhhh bene vedo che è andata molto bene ehm che paura ok di qua ok siamo appunto cascati e siamo andati fortunatamente bene ehm anche perché questa cosa è inclinata non so se è la cosa più giusta in realtà quindi non so di preciso dove ci troviamo ok questa sarà erba che cos'è? si sembra erba a me ehm ok qui possiamo toccare mattine prima di andare avanti e poi toccare perchè sennò perchè sennò facciamo i casini di qua no di qua io voglio uscire da qui voglio andare al sicuro ma poi non so neanche chi è questo signore questo se è un bambino se è qualsiasi cosa non lo so non è che non è che no ah ah oh merda ah ok no pensavo chissà che cosa faceva ma ok abbastanza sensato devo dire ok andiamo però stiamo diciamo tornando indietro soltanto che stiamo sopra di dove eravamo noi basta eh ok qui penso che dobbiamo fare qualcosa con le corde no ah ah si è infatti ok aspetta torna indietro vai così hopla oddio che paura ok ora dove cavolo ci troviamo oh oh il sottomarino ok di wii forse ho fatto anche una cosa sbagliata perchè l'ho fatta senza pensare oddio che merda era 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 entra 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 oddio che cos'era che cos'era che cos'era che cos'è stato che perchè Pensavo di potermi sentire al sicuro Nell'acqua Pensavo eh Pensavo di sentirmi al sicuro Invece no raga Invece no 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 Ok raga Io ho paura Però direi che possiamo fermarci qua Non è no 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 entra entra E basta e stai fermo Allora Perché non so come procede Come dobbiamo fare Comunque però direi Che possiamo fermarci qua Con questo episodio Lasciate mi piace Commentate e iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Grazie